Questa è la quinta conferenza regionale della scuola che cerca di riflettere sul proprio funzionamento, sulle proprie responsabilità e di collocarsi in un processo di cambiamento. In combinazione quest'anno il titolo della conferenza è la buona scuola e il governo ha lanciato questa proposta programmatica che si chiama anche buona scuola e noi pensiamo che noi ci raccordiamo eventualmente a questo processo dimostrando che la buona scuola non va detta, va pensata e praticata e noi abbiamo cercato di raccogliere in questi anni, ripeto essendo il quinto anno di conferenza, di raccogliere tanti spunti, tanti elementi di buona scuola che le scuole stanno producendo, dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore, da elementi che cercano di costruire alleanze tra scuola e esterno alla scuola, tra insegnanti e genitori, tra studenti e insegnanti in modo diverso, al riflettere sulle diverse modalità con cui si può fare scuola fino a costruire effettivamente la capacità della scuola di rapportarsi verso il problema centrale che è quello di essere un luogo in cui i ragazzi possano effettivamente crescere avendo la cultura come strumento per poter crescere. Grazie a tutti!